La notizia è la seguente investire.biz ha interrotto la collaborazione con Kimura Trading ok importantissimo noi abbiamo già chiuso tutte le nostre posizioni con Kimura Trading abbiamo già provveduto a richiedere il prelievo dei fondi il bonifico in uscita da Kimura e esortiamo anche voi a farlo. Ovviamente siamo già pronti perché abbiamo già un ottimo e nuovissimo partner con cui continueremo tutte le nostre attività di trading tutte le nostre iniziative tutto il nostro supporto a voi il nuovo broker è drive.com slash it ovviamente un Riccardo magari manda già il link così le persone possono andare a dare una sbirciata sul sito appunto di drive. è un broker molto più grosso rispetto a Kimura è un broker che ha tantissime sedi in tutto il mondo tantissime regolamentazioni tra cui come vedete qui quella consob ecco signori da oggi investire.biz non lavora più con Kimura Trading ma lavora con drive.com slash it. Quindi saremo noi esattamente come facevamo con Kimura l'assistenza clienti in italiano per questo broker noi siamo già adesso all'interno della sede di questo nuovo broker sempre qui a Malta ok? e non cambierà nulla se non appunto il broker continueremo a fare quello che abbiamo fatto fino adesso continueremo a darvi assistenza come abbiamo fatto fino adesso ma con un broker nuovo. abbiamo preparato appunto queste slide per un attimino anche guidarvi in questo momento che è appunto è anche un po' delicato se vogliamo in qualche modo perché vi chiederemo di fare qualche passaggio se volete continuare a lavorare con noi cosa che ci auguriamo. però ragazzi molto semplicemente tre cose bisogna fare uno primissima più importante cosa che noi abbiamo già fatto chiudere tutte le posizioni con Kimura e richiedere il prelievo dei fondi. quindi importantissimo ragazzi noi l'abbiamo già fatto ovviamente non fatemi non posso non possiamo entrare troppo nel dettaglio anche per questioni legali ma vi stiamo dicendo di portare via i soldi da Kimura Trading ok? secondo passaggio aprire conto su thrive.com slash it una volta fatto molto semplicemente una volta che avete attivato il nuovo conto richiedere a info chioccio di investire.biz gli indicatori l'iscrizione a 3desclub e tutto quello che avete avuto fino ad oggi. vi dicevo inizialmente che si va a migliorare non solamente perché thrive è un broker più grosso rispetto a quello che era Kimura ma anche perché abbiamo delle condizioni migliori spostandoci siamo riusciti ad ottenere delle condizioni migliorative proprio per fare in modo che anche per voi qualora decideste di spostarvi insieme a noi appunto avreste delle condizioni migliori vediamo qua Riccardo se vuoi magari fare qualche commento. beh diciamo che come diceva Luca ci sono numerosi vantaggi e uno di questi riguarda proprio quello come vedete in questa slide gli spread sui due broker. come vedete ovviamente euro dollaro il vostro strumento preferito insieme anche al Nasdaq che sappiamo essere l'indice più tradato da tutti i trader sostanzialmente insieme poi anche a S&P 500 e Dow Jones. come potete vedere gli spread sono estremamente più bassi con Thrive facciamo un esempio euro dollaro 0.9 pip con Kimura Trading con Thrive 0.5. per quanto riguarda il Nasdaq invece 1.9 e 1.2 quindi dobbiamo devo dire che insomma c'è un miglioramento molto importante anche sul petrolio per esempio che ultimamente abbiamo tradato molto e che poi andremo ad analizzare perché è molto interessante. diceva Riccardo appunto che soprattutto su strumenti come il petrolio si va molto a migliorare lo vedete qui sono molto migliorative le condizioni tenete presente guardate o in se abbiamo inserito anche per esempio nvidia dove appunto continuiamo ad avere commissioni zero e anche sulle principali criptovalute abbiamo delle condizioni migliori anche se non stiamo parlando chiaramente delle delle criptovalute vere della blockchain chiaramente stiamo parlando sempre dei cfd. quindi con appunto oggi ragazzi non forniremo più i nostri servizi gratuiti ai clienti Kimura o meglio li forniremo ancora fino alla quindici la quindici di questo mese per darvi la possibilità di spostarvi insieme a noi. quindi traders club servizio del valore di 99 euro al mese trading live servizio del valore di 99 euro al mese trading con i Cimoku 89 e in più visto che appunto un po' di sbattimento ve lo dovrete fare anche voi vi regaliamo se vi spostate anche la scalping live con Giancarlo Prisco del 20 03. quindi davvero ce la stiamo mettendo tutta altre buone notizie ragazzi la piattaforma c trader andrà a sparire perché chiaramente Kimura con noi non lavorerà più e lo ripeto ve lo stiamo dicendo in totale anticipo richiedete il prelievo chiudete le vostre posizioni guardate vi guardo in faccia mentre ve lo dico chiudete le vostre posizioni richiedete il prelievo poi se passate con noi si potrà iniziare ad utilizzare la mt4 la mt5 la piattaforma web di drive e rullo di tamburi aprile 2024 la trading view quindi so che tanti di voi l'aspettavano so che tanti di voi non vedevano l'ora di utilizzarla ed eccoci qua ragazzi finalmente siamo riusciti ad averla. ovviamente per chi passa a drive continuerà ad avere i nostri indicatori esclusivi che abbiamo già preparato per tutte le nuove piattaforme bits profile range indicator target indicator sniper pattern e tutto quello che avete utilizzato fino adesso ragazzi fatemelo dire un'ultima volta fatemi essere estremamente chiari chiaro noi ce ne siamo andati dall'altro broker vi esortiamo a fare lo stesso ragazzi più chiaro di così non posso esserlo ok? quindi tornando sulla slide iniziale chiudete tutte le posizioni con kimura trading richiedete il prelievo dei vostri fondi aprite un conto su drive.com slash it e una volta fatto potete richiedere tutti i servizi e gli indicatori che avevamo anche prima. sì vediamo subito tantissime domande ragazzi come diceva se ritorni un attimo anche sugli indicatori vorrei anche aggiungere questi indicatori che ovviamente sono proprietari come il bits profile che ultimamente stiamo usando veramente veramente tanto insieme poi anche a range indicator target indicator e sniper pattern a questi indicatori ne aggiungeremo anche degli altri a cui stiamo lavorando. la cosa interessante è che anche a livello di programmazione è molto più semplice e interessante creare nuovi indicatori e quindi anche questo è comunque un plus per quanto riguarda mt4 e mt5 e poi ovviamente quando sarà pronta inizieremo a fare tutti insieme trading anche sulla piattaforma di trading bio che è decisamente quella che insomma usano tutti quanti. quindi ragazzi noi vi aspettiamo qui su drive tra l'altro ricordando anche dei servizi se ritorni un attimo sui servizi il nostro traders club sta andando sta andando veramente molto bene continuiamo a condividere la nostra operatività come abbiamo fatto nel corso di questi mesi. su traders club continueremo con le stesse condizioni di prima ma su drive condividere la nostra operatività le ultime operazioni sul petrolio sono andate molto bene infatti secondo me possiamo anche poi andare a vedere a vedere il petrolio e un'altra cosa che volevo aggiungere è che gli spread che avete visto adesso riguardano il conto il conto classic perché dovete sapere ci sono ben tre tipi di account infatti se luca vai su prodotti cfds eccolo la vai sui cfd e da una volta entrato vai su tipi di conto abbiamo qui la possibilità di scegliere tra tre come dicevo tipi di conto il classico con degli spread che comunque sono già al di sotto degli spread che troviamo su kimura trading ma con poi depositi che non sono neanche poi così alti possiamo avere delle condizioni ancora migliori come per esempio gli spread a partire da 0,5 con il conto prime e con il conto prime plus ragazzi iniziamo con gli spread da 0,5 con poi una commissione per ogni trade ecco ragazzi sappiamo che è una notizia bomba diciamo tanti di voi ovviamente non se lo aspettavano sappiamo anche che quello che vi stiamo dicendo ad alcuni magari possa provocare un po' di spavento un po' di timore ovviamente se vi stiamo dicendo di prelevare i fondi lo diciamo con cognizione di causa quindi non vi preoccupate non c'è assolutamente nulla di cui preoccuparsi però assolutamente procedete spediti con questa cosa tenete presente che siccome sappiamo che avete bisogno della nostra assistenza cosa che abbiamo sempre fatto e attenzione continueremo a dare assistenza anche ai clienti di kimura perché comunque vi ci abbiamo portato noi e continueremo a darvi assistenza tenete presente che addirittura anche questa sera saremo qui fino orario inoltrato per darvi assistenza sia sulla chat di kimura sia sulla chat investire punto biz al telefono se avete se mandate una mail e richiedete che noi vi telefoniamo vi telefoniamo per eventuali chiarimenti per assistenza nella richiesta dei fondi importantissimo però ragazzi per richiedere i fondi bisogna chiaramente aver liquidato le proprie posizioni quindi la primissima cosa da fare è chiudere le posizioni in kimura e richiedere il prelievo dei fondi ok importantissimo siamo qui però tranquilli assolutamente noi non spariamo anzi rimaniamo qui abbiamo appunto siamo andati su un partner molto più grosso molto più solido se andate sul sito tra il punto com slash it e scorrete verso il basso io non sono un grande appassionato di calcio ma sono anche sponsor del buyer leverkusen mi dicono che sia una cosa molto bella però se andate nella parte importante dei siti finanziari ovvero nella parte bassa vedete per esempio tra le varie appunto autorizzazioni che questi signori hanno si trovano per esempio in germania sono autorizzati in germania sono autorizzati ovviamente a malta dove siamo noi sono autorizzati in inghilterra addirittura new york in australia addirittura drive in ungheria e una banca quindi davvero anche insomma davvero dal punto di vista della solidità abbiamo fatto un grandissimo upgrade al quale ci piacerebbe appunto che anche voi partecipaste ok intanto riccardo sta rispondendo anche a qualche domanda in chat però ragazzi molto molto semplice molto molto chiaro investire punto biz ovviamente continua ad esistere continueremo a dare le stesse cose gli stessi servizi che abbiamo dato fino ad oggi semplicemente cambia il broker partner e quello che stiamo facendo è invitarvi voi che appunto siete arrivati a chimura tramite noi spostarvi con noi spostarvi con noi cosa che appunto noi abbiamo già fatto e stiamo consigliando di fare a tutte le persone a noi vicini in questo momento io vi aspetto mercoledì alle ore 16 al trading live che sarà aperto a tutti quanti e faremo trading insieme ovviamente con la piattaforma con la piattaforma di drive e quindi insomma mi raccomando iscrivetevi perché insomma iniziamo subito a operare con una cosa importantissima ragazzi chimura e drive sono due broker diversi quindi non si possono passare le posizioni da chimura a drive quindi importantissimo come ho fatto vedere prima primo passo chiudere le posizioni in chimura richiedere il prelievo nel mentre vi aprite il conto su drive.com slash it quando i soldi da chimura vi tornano sul vostro conto corrente li mandate nel nuovo conto molto molto semplice e ripeto tutti quelli che sono i ragazzi dell'assistenza che avete sentito fino ad oggi continuano a essere pronti ad aiutarvi anche in questo in questo preciso istante siamo qua tutti in ufficio a malta darvi massimo supporto e tanto per dirvi abbiamo fatto arrivare le pizze mangeremo qui stasera così se qualcuno ha bisogno di noi anche alle 8 di sera saremo qui benissimo ragazzi allora direi che possiamo andare a vedere direi che possiamo andare a vedere subito la piattaforma e parlare di uno degli strumenti più tradati da noi nell'ultimo periodo nell'ultimo periodo negli ultimi mesi perché vi ricorderete ormai da diverso tempo sia io che Luca che Vincenzo abbiamo comunque sempre condiviso la nostra operatività sul petrolio US oil cash che potete vedere qui e abbiamo sempre avuto la nostra view rialzista e continuiamo ad averla beh attenzione perché abbiamo raggiunto un livello importantissimo livello importantissimo che potete notare qui gli 80 dollari al barile questo livello è estremamente importante infatti noi qui abbiamo liquidato tutte le nostre posizioni che avevamo ne abbiamo fatte tante nel corso del tempo sfruttando quella che era la debolezza del petrolio asset comunque che è stato un asset estremamente volatile nel corso degli ultimi nel corso degli ultimi mesi e ora sono qui per dirvi che non siamo più long sul petrolio ma anzi attenzione se poi seguite anche Luca saprete che il mese di marzo risulta essere un mese particolarmente interessante per iniziare a valutare degli short tra l'altro come potete vedere qui sulla piattaforma abbiamo già il target indicator che ben conoscete abbiamo il range indicator poi qui andremo vedrete ci sono tutti gli indicatori proprietari di investire.biz lo sniper pattern il biz profile position calculator insomma sarà tutto esattamente come prima solo che con spread inferiori come avete potuto notare anche sul petrolio detto ciò però la nostra view inizia ad essere inizia a cambiare perché dopo questo ultimo nuovo massimo di periodo bisogna a mio avviso fare attenzione e come al solito ci viene in aiuto il software forecaster proprio perché a partire come vedete qui vi faccio vedere anche altre stagionalità quindi il 5 il 7 anni e il 10 anni a partire da proprio da questo massimo a livello statistico notiamo come i prezzi negli ultimi anni insomma sono scesi quindi abbiamo chiuso i long e ora iniziamo a valutare delle operazioni ribassiste almeno fino a quando almeno fino al 17 al 17 di marzo vado a tracciare andiamo a selezionare le date dal 4 fino al abbiamo detto 17 benissimo qui 5 7 10 anni dal 4 17 eccoci qui e possiamo notare come se ci fossimo messi long negli ultimi anni sul petrolio in questo lasso di tempo che abbiamo appena visto non sarebbe andata molto bene invece al contrario se ci fossimo posizionati al ribasso vedete che le cose cambiano e tra l'altro Luca e poi ti lascio la parola guardate leverage ritorno che comunque passa da un 17 a un 22 proprio questo stavo vedendo e volevo far notare quando utilizzate il forecaster so che tanti di voi ce l'hanno giocate con il bottone short long perché in questo caso non solo migliorano le percentuali delle percentuali appunto di riuscita dell'operazione ma migliorano anche gli average return quindi i ritorni ok prova a schiacciare a giocare un po' con il bottone short long riccardo vedete che facendo un'operazione long le percentuali di riuscita non solo calano ma per esempio abbiamo un ritorno appunto medio del 5 del 3.4 negli ultimi sette anni del 6.2 negli ultimi dieci se facciamo invece uno short non solo migliora appunto la percentuale di riuscita del trade 80% 71 70 negli ultimi dieci anni ma anche l'average return migliora 22 19 17 questo è proprio il segnale che siamo in un periodo estremamente propizio per un ribasso ok e questa cosa che ha fatto riccardo adesso sul petrolio io vi invito a farla e a tenerla monitorata su tutti gli strumenti che voi utilizzate perché quando abbiamo entrambe le voci che migliorano beh siamo di fronte davvero ad un periodo dove la stagionalità è strong e forte bene riccardo io direi che per oggi visto che adesso ci concentreremo a dare supporto a tutte le persone che magari appunto hanno qualche domanda ulteriore magari non c'è qualcuno che non è capace a fare la richiesta di prelievo anche se abbastanza semplice ragazzi è detto questo comunque state tranquilli procedete con la richiesta di prelievo ma siamo comunque vi stiamo comunicando tutto assolutamente in tempo però procedete insomma avete capito che bisogna un attimino spicciarsi magari vuoi far vedere riccardo la procedura dalla piattaforma per richiedere il per richiedere il prelievo molto semplicemente si entra all'interno della propria area personale vedete che il mio saldo è già zero perché ovviamente se vi dico a voi di prelevare io l'ho già fatto si va nella voce appunto richieste ecco qua prelievo molto semplicemente da qui potete fare il vostro prelievo vedete molto semplice kimura trading.com area personale richieste prelievo plain vanilla semplicissimo dopodiché invece su appunto il sito thrive.com slash it qui in alto a destra c'è la voce apri conto ok molto molto semplice come appunto vi abbiamo già detto investire punto biz ha interrotto la collaborazione con kimura trading continueremo a dare supporto a tutti quanti ma chiaramente spicciatevi questo è quello che vi voglio dire questa sera chiudere tutte le posizioni in kimura richiedere il prelievo aprire conto su thrive.com slash it riccardo rimanda il link così i nostri amici ce l'hanno tutti una volta che avete aperto e finanziato il conto su thrive.com slash it richiedere a info che ho cero investire.biz indicatori e iscrizione a 3desclub ragazzi siamo qua investire.biz rimane qui continuare a darvi supporto continuerà a fare le stesse cose che abbiamo fatto fino ad oggi semplicemente cambia il broker condizioni migliori come vedete da questa slide servizi gratuiti appunto quelli che davamo prima con kimura verranno erogati ai clienti thrive piattaforma non ci sarà più la ctrader si passa a mt4 mt5 e web noi personalmente passiamo alla mt5 per adesso e a breve alla trading view e gli indicatori esclusivi li potete ricevere sulla piattaforma che deciderete di utilizzare molto molto semplice ragazzi noi ci vediamo domani su investire.biz ci vedremo al prossimo webinar del lunedì chi vorrà domani si potrà seguire anche il webinar dedicato al forecaster terminal ve lo ricordo appuntamento ormai imperdibile per tutte le persone appunto che sono appassionate di forecaster e ce ne sono tantissime veramente ci stiamo divertendo un sacco con il forecaster perché è veramente figo domani vedremo le azioni italiane quindi se siete appassionati del mercato azionario italiano vedremo delle chicchette sia dal punto di vista fondamentale che stagionale quindi vi invito a partecipare basta riccardo direi che siamo a posta aggiungo l'ultima aggiungo l'ultima cosa se vai sempre nella sezione dei webinar l'avevamo già detto ma volevo ripeterlo il giorno 20 marzo ci sarà la scalping live eccola lì di sera quindi durante la fed e chi quindi passerà con con noi su drive potrà partecipare gratuitamente uno degli eventi più attesi da tutti i trader bene ragazzi grazie mille siamo davvero entusiasti di darvi questa notizia e di portarvi con noi in una realtà estremamente più strutturata e più grossa rispetto a quella con cui abbiamo lavorato fino adesso siamo qua ragazzi se avete bisogno di noi ci trovate al telefono sui telefoni con cui sentite anche su whatsapp i ragazzi nelle chat insomma ovunque ci siamo siamo qui per darvi supporto grazie a tutti e ci vediamo domani su investire.biz buona serata a tutti